Destagionalizzare, fare rete in tutti i territori, puntare in maniera efficiente sul turismo e alle vetrine d'eccellenza fino al premio Nobel con i fiori di Sanremo. Non tutti lo sanno ma i fiori del premio Nobel vengono storicamente forniti dal comune di Sanremo e dalle serre di Sanremo e il signor Nobel aveva una villa che tuttora è presente a Sanremo, Villa Nobel e quindi era molto legato alla nostra terra. Per questo quest'anno abbiamo deciso una forte presenza promozionale di Regione Liguria. Sono le strategie condivise dall'Agenzia regionale La Mia Liguria che oggi pomeriggio era nella sede di Confartigianato alla Spezia per presentare il piano 2019 agli operatori del settore. Purtroppo è stato un anno molto difficile per quello che è successo sia a Genova sia per la recente maneggiata che ha creato tanti danni ai comuni rivieraschi e quindi se già prima c'era bisogno di strategie di un intervento adesso la strategia all'intervento deve essere maggiore. La Regione ha raddoppiato il budget di Agenzia portandolo a 1.500.000 euro per l'anno 2019 e noi abbiamo proposto agli operatori tutta una serie di azioni da intraprendere nei mercati esteri. È ovvio che bisogna ragionare tutta la Regione, dobbiamo ragionare in termini di Regione e non bisogna parcellizzare le risorse. Il Confartigianato La Spezia ha le idee chiare su come muoversi. Un programma che ci vede in sintonia perché poi sono gli stessi obiettivi che come Confartigianato abbiamo che sono quelli di aumentare la qualità complessiva del nostro turismo, allungare la stagione turistica e allargare i territori. L'Agenzia fra l'altro nel 2019 ha raddoppiato il budget a disposizione quindi siamo sicuri che avremo la possibilità di partecipare ad una serie di fiere che sarà in grado di aumentare complessivamente i volumi 2019 e 2020 perché poi nel 2019 andremo a vendere il prodotto 2020.